Nel periodo estivo Poste Italiane viene sempre più incontro alle esigenze dei residenti e dei turisti in vacanza nella provincia di Sassari con una serie di servizi che permettono di non recarsi fisicamente all'ufficio postale, bensì di eseguire numerose operazioni online. Con le app Banco Poste, Poste Pay e il sito www.poste.it è possibile infatti effettuare da remoto moltissimi dei servizi tradizionalmente erogati a sportello. Si possono pagare varie tipologie di bollettini postali, comprese multe, ma anche monitorare spedizioni, spese e trasferire denaro. Quanto agli ATM postamat disponibili 24 ore su 24 sono 70 nel nord Sardegna e possono essere considerati come canali complementari all'ufficio postale e non solo per i prelievi di contante. I dispositivi infatti consentono il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, le ricariche telefoniche, postpay, operazioni informative, quali l'estratto conto, il saldo e la lista movimenti. Tra le novità, con la nuova funzionalità cardless, i prelievi presso tutti gli ATM postamat del territorio si possono fare utilizzando lo smartphone al posto della carta. Per chi invece preferisce recarsi direttamente nell'ufficio postale è possibile prenotare il ticket elettronico. Per chi è in vacanza è molto utile anche l'app Ufficio Postale che permette di individuare gli uffici e gli ATM più vicini.